ciao io sono el gasi e questo è il canale di el gasi da buon grafico e motion designer oggi ti devo spiegare l'importanza di un brand di rappresentanza su youtube avere un bel una bella rappresentanza grafica e anche animata e vedremo insieme tutti gli elementi che servono tutti gli elementi grafici che servono per avere un bel brand su youtube gli elementi sono essenziali per il tuo canale youtube e danno lo spettatore il necessario per capire chi sei per differenziarti dagli altri produttori di video e servono a ottenere più informazioni su di te cosa importantissima io ti ringrazio per aver messo like per essere iscritto al canale perché sono sicuro che l'hai fatto perché i contenuti ti piacciono perché sei tornato in questo canale quindi grazie grazie davvero beh oggi su youtube praticamente hai bisogno di differenziarti dagli altri quindi quali sono questi elementi di cui abbiamo bisogno partiamo con quelli basici che sono l'immagine del profilo che può essere rappresentata sia da una tua foto della foto del canale sia da un logo dal logo del tuo brand che tu sia da solo come youtuber sia che tu abbia creato un brand tu hai bisogno di mettere un'immagine del profilo punto base poi c'è il banner che devi mettere le tue informazioni di base quando escono i video quando c'è un evento quando succede qualcosa metti nel tuo banner per tutti i dispositivi youtube adatta il tuo banner quindi dovrai fare un banner che abbia delle informazioni o abbia semplicemente la tua immagine di rappresentanza e sempre per immagini statiche parliamo di thumbnail le thumbnail sono importantissime sono quegli elementi che le persone vedranno quando scorrono in un'altra home page ad esempio la loro home page principale di youtube quindi vedranno la tua thumbnail e ti riconosceranno devi differenziare deve essere unica deve essere una thumbnail che chiami l'attenzione quindi è importantissimo e iniziamo con quelle che possono essere gli elementi grafici animati per il tuo video no partiamo dalla principale che è la sigla quando tu hai una sigla per il tuo canale dovrai diciamo essere riconoscibile per quella sigla lì dovrà essere una sigla abbastanza riconoscibile dovrà essere unica dovrà essere importante dovrà essere tua diciamo che tutte queste devono avere una coordinazione quindi devono essere tutte grafiche coordinate la tua sigla tuo banner il thumbnail eccetera deve essere tutto tutto abbastanza coordinato mettiamo che tu hai un ospite che tu hai o anche la tua persona no dovrai mettere il nome di questa persona dovrai mettere una barra sotto che si chiama sottopancia dovrai diciamo aggiunge quello che questa persona fa oppure dovrai aggiungere solo il suo nome quindi sottopancia contiene quelle informazioni importanti per il tuo pubblico per capire chi è chi è chi è presente nel video e chi è quella persona che magari ha invitato pinco pallo motion designer bla bla titoli e capitoli io li chiamo bullet point così una persona può prendere appunti e può capire anche anche a che punto è del video mentre lo scorre velocemente se se lo dovrà fare per trovare gli elementi del tuo video così si si ritrova all'interno del video che stai creando la wipe la transizione quando tu hai una transizione serve a differenziare io ad esempio personalmente la uso per differenziare da un tema all'altro oppure da un video intero che ho fatto ho fatto un video con dei capitoli con un tema principale poi quando voglio passare verso la fine del video io uso la transizione uso la wipe per passare la call to action e quindi dico finisco il tema le persone grazie alla transizione sanno che adesso sono passato alla fine del video quindi dico iscrivetevi al canale bla 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 e come vi dicevo prima la call to action troverai un sacco di elementi online per fare la call to action ed è molto importante quasi come la thumbnail o le altre le altre cose il classico scriviti al canale no sicuramente più aumenti il modo in cui comunichi questa cosa qui più aumenta la possibilità che le persone facciano quello che vuoi quindi se fai una call to action e poi inserisci l'animazione o un'immagine del scriviti e metti like questo ti aiuta un sacco avere questo elemento animato avere questo elemento presente è super importante secondo me è essenziale dovrai aggiungere per il tuo canale sicuramente questi elementi ti servono quindi facciamo un riassunto veloce così non ti perdi numero uno foto del profilo una foto tua o logo del tuo brand quindi banner lo vedranno nella tua home page all'interno del tuo canale la thumbnail sono le copertine dei tuoi video quindi vedranno per ogni tema per ogni video che farai la copertina del tuo video è la thumbnail la sigla rafforza diciamo quello che è il tuo canale l'identità del tuo canale fidelizza il tuo pubblico facendo una sigla unica fidelizzi il tuo pubblico sottopancia sono le informazioni su persone luoghi o cose ok titoli o capitoli sono i bullet point per il tema che stai trattando nel video e quindi servono a aiutare le persone a orientarsi all'interno del tuo video wipe una transizione per differenziare un argomento da un altro passare da un argomento all'altro la call to action è la chiamata all'azione per iscriversi per mandare a un link per mandare un corso eccetera eccetera una chiamata all'azione ti ringrazio per aver messo like a questo video per esserti iscritto perché sono sicuro che l'hai fatto ci vediamo nei prossimi video ogni giovedì alle 19 abbiamo un podcast qui in questo canale in live addirittura con un ospite a tema creatività quindi se si parla di creatività qui ogni giovedì alle 19 in live così puoi commentare e partecipare con noi all'interno di youtube all'interno del nostro canale youtube noi ci vediamo al prossimo video che esce ogni settimana manda la sigla bella